Ryan Walters, grazie per essere qui. Grazie per avermi invitato. Apprezzo il lavoro che state facendo e sono molto contento di essere qui. Grazie, ma anche lei ha fatto cose piuttosto interessanti. Dopo il video virale in cui i bambini succhiavano le dita dei piedi degli insegnanti, avete indagato e agito per porre fine a questa roba, con delle azioni concrete. Mi dica a che punto erano le cose. Tutta questa storia è abbastanza pazzesca. Pazzesco, vero? Pete Buttigieg e suo marito hanno postato video di loro stessi, in particolare di suo marito, mentre i bambini giuravano fedeltà a una bandiera arcobaleno. E poi se la prendono con me perché noi abbiamo detto, non è che voi parlate ai bambini di trans, di sesso, di gay e lesbiche? Gli insegnanti non parlano di queste conversazioni con i bambini. Di queste cose si parla tra genitori e figli quando vogliono discutere di questo tipo di cose, non a scuola. 350 associazioni LGBTQ+, da tutto il paese, hanno chiesto le mie dimissioni perché noi in Oklahoma abbiamo detto, noi non facciamo questa roba in classe. Qui si deve studiare lettura e scrittura, aritmetica e storia, la vera storia, non questa specie di pseudo-storia finta per cui l'America sarebbe malvagia e razzista. E stanno andando fuori di testa, perché, per dirla tutta, questi vogliono indottrinare i bambini. Vogliono che i bambini diventino transgender per forza, e noi questo non lo permettiamo. Partiamo dal principio. Tutti sono rimasti scioccati da un video davvero strano, fatto in un distretto scolastico, in cui gli insegnanti, o chi per essi, si facevano leccare le ascelle e succhiare le dita dei piedi dai ragazzi. È inquietante. Sembra una cosa fuori dal mondo. Non avrei mai immaginato di vedere niente di simile. E si permetteva che questo accadesse. Cos'è successo? Sì, è successo in due grandi distretti. Prima abbiamo visto un video degli studenti che leccavano i piedi di altri studenti. Poi, un altro video in cui leccavano le ascelle. Prima di tutto, i genitori ci hanno detto che erano coinvolti degli insegnanti, degli adulti. La scuola nega. Dice che erano solo ragazzi. E dice che non ne sapeva niente. Poi abbiamo iniziato a fare altre domande e abbiamo scoperto che la scuola aveva approvato questa roba. E ora stiamo indagando su questi distretti per capire come sia potuto accadere. Chi ha dato l'ok? Chi era d'accordo? Chi era coinvolto? Ma da questo emerge la loro convinzione che i distretti scolastici, gli amministratori, con i loro master, ne sappiano di più di una mamma e un papà su cosa è meglio per i loro figli. I genitori non ne sapevano niente e l'hanno scoperto solo quando Libs of TikTok ne ha dato la notizia. La sera stessa ne hanno parlato i telegiornali e il nostro ufficio ha cominciato ad essere bombardato da chiamate di genitori che dicevano non ne sapevamo nulla finché non l'abbiamo visto al telegiornale. E cosa fa la sinistra? Mi attaccano per aver detto che andremo fino in fondo a questa storia. Attaccano Libs of TikTok per aver dato la notizia. Attaccano le persone che stanno portando trasparenza nelle nostre scuole, ma non le scuole che sono effettivamente coinvolte in questo comportamento. Questo è ciò che vuole la sinistra. Vogliono l'impunità. Vogliono che le scuole indottrinino i vostri figli. Ma noi, nello stato dell'Oklahoma, non lo permetteremo. Quando c'è un grande scandalo, quando la gente vede un video francamente rivoltante, ne è ovviamente disgustata e si chiede perché i miei figli fanno questa roba? Io voglio che imparino lettere, storia o essere dei cittadini partecipi, non che vengano sessualizzati dal sistema scolastico. Ma quando emerge un video del genere, invece di scusarsi, questi dicono come osate a divulgare al pubblico quello che facciamo? Esatto. Ed è una cosa che va avanti nelle nostre scuole da tempo. I dirigenti scolastici credono di non dover rendere conto ai genitori. Ricordate quando hanno chiuso le scuole per il Covid? Noi abbiamo parlato con genitori che erano preoccupati che i figli avessero tendenze suicide stando a casa o che restassero indietro col programma. Abbiamo sentito molte di queste storie e i sindacati degli insegnanti ci rispondevano «No, noi sappiamo meglio di voi cosa fare. I vostri figli non sono al sicuro qui». E noi, non credete che una mamma e un papà si preoccupino dei propri figli più di voi? È semplicemente scandaloso il tipo di comportamento che si vede da parte dei sovrintendenti dei consigli scolastici. E abbiamo finalmente visto genitori dire «Basta!» non vogliono più che ai loro figli venga imposta questo genere di istruzione. Vogliono essere loro a decidere. Ed è quello che noi crediamo con tutto il cuore. Quello che dobbiamo ottenere, prima di tutto, è che il governo federale non abbia alcun potere sull'istruzione. I nostri padri fondatori hanno demandato l'istruzione agli stati, per cui noi vogliamo togliere potere al governo federale, spingerlo fuori dalle nostre scuole. E poi, come Stato, vogliamo spostare tutto il potere sui genitori, come è giusto che sia. È così che si riporta l'istruzione sulla retta via. So che di recente siete incappati in qualche polemica, perché avete messo uno dei capi di Lips of TikTok in una certa posizione. Sì, un paio di anni fa ho conosciuto Kaya Rechik, che sta dietro a Lips of TikTok, e che ha iniziato a mandarmi dei loro video nei quali c'era un insegnante dell'Oklahoma. Dicevano fosse un anarchico. Sì, l'ho visto. Qual era il suo obiettivo? Il suo obiettivo era quello di rendere i ragazzi degli anarchici. Questo diceva, voglio che voi andiate a dire ai vostri genitori che devono andare a fan puntini puntini. Ora sono io i vostri genitori. Lo dice testualmente davanti a una videocamera. Kaya ha diffuso la notizia e noi lo abbiamo cacciato dalla scuola. Mi pare ovvio. Da lì abbiamo imparato a conoscerci e lei ha continuato ad aiutarci a indagare e a trovare questi video. Ora collabora con noi e ci ha aiutato a supervisionare il materiale in classe. e la sinistra, i sindacati degli insegnanti, sono impazziti. Questi attivisti di sinistra sono andati fuori di testa e io ho detto che guideremo il paese in modo da garantire che i genitori sappiano cosa succede nella scuola dei loro figli. Kaya è una leader nazionale nella lotta per i diritti dei genitori, per la trasparenza, per cui noi saremo al suo fianco e siamo orgogliosi di collaborare con lei in Oklahoma. Ma la sinistra odia la trasparenza. Loro vogliono che tutto avvenga in segreto, alle spalle dei genitori. Io e i miei colleghi abbiamo indagato su alcuni programmi di educazione sessuale nelle scuole. E una cosa che mi ha davvero scioccato è stato scoprire che sono state stabilite delle misure per evitare che i genitori vedano cosa viene insegnato ai figli. Per esempio, se i genitori chiedono di vedere i libri di testo, c'è una versione digitale con delle slide dove le parti più scabrose sono nascoste. Ma la versione stampata è completa. Poi parlano anche di proprietà intellettuale e dicono che c'è un copyright per cui non possono rendere tutto pubblico. Voi cosa avete riscontrato rispetto a questi tentativi di nascondere ai genitori cosa viene insegnato? Esatto. Gli editori di libri di testo continuano ad andare contro la volontà dei genitori spingendo l'indottrinamento. C'è stato segnalato che ora gli editori di libri di testo limitano l'indottrinamento alle edizioni per insegnanti. Così i genitori, quando ricevono un libro di testo e lo sfogliano, non vedono il transgenderismo, i 27 generi sessuali e cose del genere. Quello non è nel libro. È nelle note per l'insegnante. Quando fai questa lezione, è un ottimo momento per parlare del fatto che il genere è fluido, che ci sono più generi al di fuori dei due che conosci. E guardate quanti sforzi stanno facendo per indottrinare i bambini di nascosto. La realtà è che tutto dovrebbe essere trasparente. I genitori dovrebbero vedere tutto il materiale che vedono i loro figli. Dovrebbero sentire cosa succede in classe. Dovrebbero sapere quali lezioni vengano impartite ai loro figli. Perché, ora che l'abbiamo visto, non possiamo più tornare al tempo in cui ci si fidava dei distretti. Ormai sappiamo che ci sono individui incredibilmente malvagi nelle nostre scuole. Abbiamo visto dei dirigenti scolastici che sono letteralmente in missione per far diventare i vostri figli dei guerrieri della giustizia sociale. Quindi dobbiamo ottenere trasparenza. Sembra che ora questa sia una delle grandi preoccupazioni dei genitori. I genitori guardano i figli e vedono che non stanno imparando a leggere. L'alfabetizzazione è un disastro. Hanno eliminato la scrittura in corsivo. Stanno distruggendo la storia americana e la stanno demonizzando. E cosa viene insegnato? A essere degli ipersessuali nei modi più perversi che si possono immaginare. Parlano di un'educazione sessuale completa in cui si normalizza letteralmente tutto. Tutto. E a quanto pare insegnano anche a diventare degli attivisti politici di estrema sinistra. Uno vede tutto questo e si chiede se ci sia un disegno dietro a tutto questo. Perché stanno facendo questo i bambini? Perché stanno usando la scuola? C'è un disegno, assolutamente sì. Ed è voluto dall'amministrazione Biden, ma anche dai sindacati degli insegnanti e da altre organizzazioni di estrema sinistra. Vogliono il potere e agiscono sulle nostre scuole. Poi vogliono creare degli elettori democratici. L'amministrazione Biden e i sindacati degli insegnanti sanno che se tutti i nostri ragazzi diventano guerrieri della giustizia sociale, le elezioni dei prossimi 15, 20, 30 anni andranno tutte nella loro direzione. Se riescono a far credere ai bambini che ogni idea conservatrice sia razzista e bigotta, hanno in mano il futuro. E infine è una questione ideologica. Loro vogliono davvero trasformare l'America in un delirio marxista. Marx l'ha detto, no? Se controlli l'istruzione, controlli i giovani. E puoi metterli contro le loro famiglie, contro la loro fede, contro il loro stesso paese. Ed è esattamente quello che stiamo vedendo qui. C'è un obiettivo preciso. Basta ascoltare le cose che escono dall'amministrazione Biden e dal sindacato nazionale degli insegnanti. Non lo nascondono nemmeno. Io ho pubblicato un video, e l'abbiamo mostrato nello Stato più volte, in cui ho preso spezzoni di quello che dicono alla conferenza del sindacato nazionale degli insegnanti. Ascoltate le loro stesse parole. La loro volontà sovversiva è evidente. So che siete stati attaccati per aver mostrato quel video. E che vi hanno accusato di voler bruciare i libri. Poi, quando davanti al Parlamento statale sono stati mostrati i video e letti libri, loro hanno cercato di impedirlo, perché è materiale incredibilmente pornografico. È affascinante vedere come i media affrontano un tema come questo. Partiamo dalla vicenda dell'Oklahoma. Certi genitori non erano affatto d'accordo su alcuni libri nelle loro scuole. All'inizio alcuni media locali se ne sono occupati, ma poi hanno completamente abbandonato la notizia. E quando io ho detto, toglieremo questi libri dalle scuole, torneremo a concentrarci sui programmi scolastici, i giornali hanno avuto un'amnesia. E io ho tweetato le loro vecchie notizie a dire, veramente ne avete parlato in passato anche voi. Quindi, ora la questione è venuta a galla. So che si tratta di un'operazione della sinistra. Quindi è da lì che siamo partiti. Poi, mi hanno detto, in realtà non è così grave come lo descrivi tu. Così sono andato a una riunione del consiglio di classe in cui erano presenti molti giornalisti e ho detto, vi mostro alcune immagini di questi libri e vi chiedo di mandarle in onda, affinché fossero i telespettatori a decidere se è pornografia o no. Quel giorno, uno dei produttori mi ha scritto un tweet e mi ha detto, stavamo per mandarlo in onda, ma quando l'ho fatto presente alla squadra, mi hanno detto che non potevamo mandarlo in onda perché potevano vederlo dei bambini. Questa è tutta da ridere. Ovvio che i genitori siano arrabbiati. È talmente osceno che non si può nemmeno trasmetterlo in TV di sera, perché i bambini potrebbero vederlo. Forse non avete capito, questa roba non dovrebbe proprio esserci a scuola. Un attimo, questa è grossa. Non possono mostrarlo in TV perché i bambini potrebbero vederlo. Ma è proprio questo il problema, che i bambini vedono questa roba a scuola. Sì, sì, è semplicemente assurdo. Ma in cose come questa saltano fuori contraddizioni dappertutto, perché in ultima analisi quello che vogliono fare è solo mettere un bersaglio sulla schiena dei conservatori, dare a loro tutte le colpe, come le Moms for Liberty e Lips of TikTok. Non dimentichiamo che l'Associazione del Consiglio Scolastico ha denunciato al Ministero degli Interni i genitori che si presentano alle riunioni del Consiglio Scolastico. Ecco quanto hanno paura dei genitori e della trasparenza. Io sono un ex insegnante. Ho parlato con molti insegnanti in gamba che mi dicono di cosa deve aver paura un bravo insegnante. Dovresti volerla la trasparenza. Dovresti volere che i genitori siano più partecipi della scuola dei propri figli. Quindi è evidente che hanno altri fini. Parliamo di come stanno andando le cose in questo paese. Perché mi sembra che quello che sta accadendo nel sistema scolastico sia uno dei più grandi movimenti sociali attualmente in atto. Forse il più grande. Ed è anche uno dei più silenziosi. Io viaggio e parlo molto con le persone. E vedo sempre più persone impegnate socialmente e politicamente nel sistema scolastico. Che cosa sta succedendo? Io vedo mamme e papà, soprattutto mamme, sempre più coinvolti nel processo politico. Come mai prima d'ora? Vedo un numero mai visto di persone che si presentano alle riunioni del consiglio scolastico. Persone che stanno scoprendo questi problemi nelle loro scuole. Vedo anche, per la prima volta da decenni, che il Partito Repubblicano batte il Democratico nei sondaggi in materia di istruzione. Per anni, i repubblicani hanno fatto i moderati in materia di istruzione. Aumentavano i soldi e facevano piccoli cambiamenti. E i genitori hanno sempre pensato che questo non fosse abbastanza. Ora invece vediamo un Partito Repubblicano farsi portavoce dei genitori e difendere i loro diritti, per la scelta della scuola, per eliminare l'ideologia woke dalle scuole, e perché ci si concentri sui risultati scolastici e sull'eccellenza accademica. I genitori si stanno unendo. Questa è una strada da percorrere. Può funzionare davvero. Per questo ho continuato a spingere i repubblicani in tutto il paese. L'avete visto con il Presidente Trump, che diceva di voler tornare a far capire ai nostri ragazzi che cosa abbia reso grande l'America, in modo che l'America possa essere di nuovo grande. E questo è anche il percorso da seguire per vedere il Presidente Trump di nuovo alla Casa Bianca. Ma alla fine, come lei ha sottolineato, questo è un movimento enorme in cui si possono vedere scuole di successo. Si possono vedere crescere bambini che dicono vogliamo fare dell'America un grande paese. Come cittadino, io ho questa responsabilità. Guardo al nostro passato e dico che possiamo tornare a essere quel grande paese. Ed è così che l'America guida il mondo libero. Molti genitori sono molto preoccupati per i figli e i loro nipoti. E credo che molti di loro non sappiano come agire. Cosa consiglierebbe alle persone che guardano questo video? La prima cosa è essere totalmente coinvolti nell'educazione dei propri figli. Chiedete a vostro figlio che cosa ha detto l'insegnante a scuola. Fammi vedere il materiale che usate a scuola. Poi parlate con l'insegnante. Partecipate alle riunioni del consiglio scolastico. Cosa stiamo facendo come distretto? Cosa stiamo cercando di promuovere? Il consiglio scolastico parla di equità o di eccellenza. Non dobbiamo parlare di equità, ma di risultati. Che tipo di materiale viene utilizzato nella scuola? Insegnano la vera storia americana? O dicono ai vostri figli che l'America è un paese malvagio e razzista? La scuola come risponde quando chiedete di vedere i materiali o il suo bilancio? Perché voi siete dei contribuenti. Quindi dovreste poter vedere come le scuole utilizzano i soldi. Impegnatevi sempre su questi temi. Impegnatevi nelle elezioni per i consigli scolastici locali. Servono persone migliori nei consigli scolastici. E poi, a livello statale e federale, votate per candidati come il presidente Trump, che si battono per voi in quanto genitori, cittadini americani e contribuenti americani. E scegliete persone coraggiose, che si batteranno per i vostri diritti di genitori, per il futuro dei vostri figli e che non abbiano paura di parlare. La sinistra vuole che vi tiriate indietro. Per questo combatte costantemente contro i repubblicani in modo da limitarli. La realtà è che abbiamo bisogno di molto più coraggio. Abbiamo bisogno di molte più persone che non si tirino indietro di fronte a un branco di wok e che rimettano l'istruzione in carreggiata. Se riusciamo a risolvere questa questione, è il paese stesso che si rimetterà in carreggiata. Considerando come lei viene attaccato, mi viene da pensare che la cultura dell'annullamento avesse molto più potere in passato, perché attaccava poche persone. Oggi, invece, se la prendono con così tante persone, che sembra aver meno impatto. So che vi hanno attaccato e immagino siano la maggior parte dei gruppi LGBTQ del paese. Come ci si sente ad essere attaccati da così tante organizzazioni diverse e continuare a difendere la propria causa? Io direi che tutti questi attacchi, dal sindacato degli insegnanti, da questi gruppi LGBTQ a livello nazionale e poi i vari Buttigieg e Newsom, che un giorno mi ha tweetato, sono la prova che ho fatto centro. Tutto questo mi dice che la sinistra mi vede come una minaccia. Hanno capito che vincerò questa guerra per i nostri figli. L'Oklahoma farà da apripista. Questo mi rafforza e mi incoraggia a pensare che vinceremo questa battaglia. E noi dobbiamo vincerla. Quindi abbiamo bisogno di molte più persone che si oppongano alla Masnada Walk, che non si tirino indietro di fronte alla cancel culture. Il declino è una scelta. Non c'è motivo che il nostro paese vada in declino. Ma dobbiamo guardare indietro ai nostri fondatori. Dobbiamo guardare ad alcuni nostri grandi presidenti americani. Loro erano fermi sulle proprie posizioni. Hanno difeso i loro principi. E venivano attaccati per questo. Ma è così che si riporta al paese nella giusta direzione. Quindi non indietreggiate mai di fronte a una Masnada Walk. Difendete i vostri principi. Sostenete i genitori e i contribuenti. E non lasciate che l'estrema sinistra avanzi. Ultima domanda. Alcuni penseranno, chi me lo fa fare? Io sono tranquillo. Lavoro, torno a casa e faccio la mia vita. Molti non vogliono esporsi. So che lei invece si è esposto parecchio. Perché lo fa? Io ho quattro bambini piccoli. Voglio che domani abbiano un paese migliore di questo. Vedo dove Joe Biden sta mandando questo paese. E so che l'America ha davanti a sei giorni sereni, nonostante questa amministrazione. Vedo giovani che vogliono credere nell'America e che negli ultimi tempi, durante questa presidenza, hanno perso la speranza e si chiedono dov'è la classe dirigente. Non conoscono la storia americana abbastanza da capire cosa abbia reso grande l'America. Non capiscono su quali principi siamo stati fondati. Non capiscono che i nostri fondatori hanno detto siete stati dotati dal vostro creatore di alcuni diritti inalienabili. Nessun politico può toglierveli. È questo il paese in cui io credo. Se torniamo a questo, se torniamo a capire la grandezza americana e da cosa deriva, se ci concentriamo su questi principi fondamentali, possiamo lasciare un paese migliore ai nostri figli e nipoti. ma dovremo lavorare e lottare per questo. Ryan, grazie per essere intervenuto. Grazie infinite a voi.